E siamo arrivati così al nostro focus dal Burkina Faso a Pistoia per imparare le migliori tecniche per la gestione di orti e vivai. Grazie a tutti. Il progetto è un progetto importante che prevede di trasferire le nostre competenze delle tecniche di innesto soprattutto negli alberi da frutto a questi nostri ospiti del Burkina Faso in modo che poi tornando nel loro paese possano fare delle tecniche di coltivazione soprattutto di mango qui non ce l'abbiamo ma insomma abbiamo altri alberi da frutti simili affinché nell'alimentazione sia degli adulti che dei bambini possano essere più ricche di vitamine e quindi chiaramente una crescita migliore e più sana. È un progetto che riguarda l'acqua come bene essenziale nei suoi vari usi quindi innanzitutto per il consumo umano poi per l'abbeveramento degli animali e poi come risorsa per irrigare i campi dove vengono coltivati ortaggi, frutta e in particolare alberi da frutto. Ci dispiace che i nostri amici da Burkina che sono arrivati siano solamente due, era previsto che ne venissero quattro ma prima l'ambasciata francese poi l'ambasciata italiana hanno fatto delle difficoltà enormi. Quando queste persone cercano di venire qua gli viene negato il visto e poi magari ce le ritroviamo sui barconi che a migliaia sbarcano sulle nostre coste. Quindi questo cosa vuol dire? Che ufficialmente tutti sono disponibili a fare le cose perché le persone rimangano a vivere e a lavorare nel loro paese d'origine. Nella realtà poi si pongono grandi ostacoli, questa è una contraddizione che vorrei sottolineare. Il progetto è stato presentato alla stampa e durante la conferenza è stato siglato il protocollo d'intesa fra i soggetti e i promotori. Questo tipo di investimento che facciamo, la partenza è un volano che ha un obiettivo prioritario che è quello di portare questo progetto per il livello sia a livello nazionale all'agenzia della cooperazione ma soprattutto cercare di avere contributi alla comunità europea per la sua realizzazione. La nostra è la fase d'avvio, è la fase più delicata, quella di trovare soldi per partecipare a questo progetto però il 30% noi lo copriamo fin da subito e il resto ovviamente lavoreremo. Ai Vivai Vannucci si è svolta poi un'altra fase del progetto per lo sviluppo della frutticultura. A Pistoia sono state ospitate due persone provenienti dal Burkina Faso. Jean-Pierre è il presidente di un'associazione che collabora al progetto accompagnato da una donna, Moret, la leader delle donne del villaggio dove sarà realizzato il vivaio. Un momento di formazione per conoscere tutti gli aspetti del progetto compreso la fase di innesto delle piante e della potatura. Il progetto come è organizzato? Il progetto è organizzato con un'associazione del Burkina Faso con la quale lavoriamo dal 2005 che ha la responsabilità di eseguire. Ovviamente ogni progetto che facciamo in Burkina Faso lo studiamo insieme e lo studiamo soprattutto insieme alle comunità. Andiamo nei villaggi e vediamo quali sono i loro problemi, i loro bisogni, quello che possono fare e quello che vogliono fare. Qui in questo vivaio si svolge una delle fasi del progetto più complesso, ecco ce lo racconto. Ecco questa parte del progetto riguarda lo sviluppo della frutticoltura. È una regione a nord del Burkina Faso non molto adatta per la frutticoltura e il risultato è che non c'è frutta, anche se è molto richiesta dal mercato purtroppo non ce n'è perché le condizioni climatiche non lo permettono oppure lo permettono ma richiede molta attenzione. Ci sono però alcune zone della provincia con degli avvallamenti, quindi la terra è più umida e c'è frutta, però è frutta selvatica. Alberi piantati 40-50 anni fa, quindi noi vogliamo portare le varietà selezionate e poi formare delle persone perché curino queste tante in un piccolo vivaio e poi facciano gli innesti, sia in vivaio che presso gli agricoltori. La signora parla solo la sua lingua, non parla il francese e quindi per lei che esperienza è stata? È stata un'esperienza sconvolgente perché lei ha vissuto solo nel suo villaggio l'elettricità non sa cosa sia, l'acqua si va a prendere a un pozzo distante non ha mai visto delle scale e quindi quando è arrivata qua abbiamo dovuto insegnarle come si accende la luce, come si apre l'acqua, come si miscela con l'acqua calda le scale, ad esempio l'ho ospitata a casa mia, non ha voluto dormire al secondo piano perché aveva paura, ha preferito dormire in basso. Quindi la persona, il presidente di Iris Afrique doveva accompagnare queste quattro persone due visti sono stati respinti perché doveva fare la chioccia, insomma, insegnare qualsiasi cosa perché vengono dal villaggio. Perché proprio concentrarsi sugli agrumi e sulla frutta? Sì perché noi facciamo, tra le diverse attività che portiamo avanti, c'è anche la lotta contro la malnutrizione. Malnutrizione non è dovuta tanto alla carenza di cibi in generale ma alla carenza di certi componenti del cibo, le vitamine, soprattutto le vitamine idrosolubili. Frutta lì ce n'è pochissimo e i bambini hanno un'alimentazione molto carente di vitamine e quindi cerchiamo di sviluppare la frutticoltura il più possibile e in parte, senz'altro, ci riusciremo. Grazie a tutti.